eccoci qua benvenuti a tutti dopo un po di mesi tornano i video teoria della verità dei massimi esperti abbiamo come avete visto cambiato un po il trend sul primo canale che è questo qui dove dovete iscrivervi mettere like e condividere mi raccomando ragazzi se vi è piaciuto questo video tra poco ascolterete mettete like se non vi è piaciuto mettete dislike ma comunque iscrivetevi al canale perché è molto importante e se vi fa piacere ovviamente lasciate anche un commento che sia positivo o negativo che sia un'idea che sia una domanda quello che vi pare passare ad iscrivervi anche sul secondo canale youtube dove trattiamo tutti gli altri tema di manga e anime passate su twitch passate su telegram passate su instagram passate sulle pagine facebook e gruppo facebook passate su tutti i nostri social ma si ma anche su tiktok ogni tanto così per farvi due risate detto questo ho finita questa super marketata della verità comunque vi ricordo che domenica 27 c'era la live evento del compagno del canale con super ospiti magnifici vabbè gli ospiti più importanti ovviamente siamo io e kata che siamo gli uomini della verità però andiamo con ordine adesso questo video che vuole come sempre come abbiamo fatto soprattutto con gli anni di guano coni dirvi che cosa dirvi che magari in questa nuova avventura capitolo 1126 127 128 129 leggeremo il 130 sapete che poi ci sarà pausa di due settimane e così via è importante questo video perché come sempre possiamo unire i pezzi del puzzle non è che sarà per forza così ma magari magari un po di verità ci sarà all'interno di che cosa loki il principe alleato o villain questo personaggio dalle mille sfumature ovviamente noi non l'abbiamo ancora conosciuto veramente all'interno del manga di ma sapevamo della questione del matrimonio la figlia di big ma questa unione che non si è fatta come direbbe qualcuno questo matrimonio non sa da fare no e quindi così via adesso sappiamo che sicuramente lo incontreremo ma noi dobbiamo rinvenire nella mitologia non rena attenzione non è che mischiamo tutte le mitologie quando eravamo a Wano noi cercavamo di portare avanti con dei collegamenti logici quello che era la cultura il modus operandi nipponico no? e qui dobbiamo portare quella non rena non è che mi metta a parlare di mitologie extra o magari può anche centrare qualcosa ma non è questo il caso allora vediamo un pochettino quello che io vi dirò tra poco e tutto quello che ovviamente voi avete già ascoltato durante le domeniche nelle varie live qui sarò un po' più magari preciso un po' più così però vediamo allora è importante è importante voi sapete quanto da fosse un amante della cultura anche dei vichinghi no? non a caso la questione dei vichinghi vichingo ma Loki nella mitologia non rena è importante perché custodisce quasi le geste immortali le origini immortali di questa divinità una serie di storie e di leggende che cercano di rispondere a innumorevoli domande sull'esistenza umana ha dato vita a tantissimi miti e tradizioni leggende tramandate nel tempo anche da tantissimi scrittori c'è una parte molto importante tra cui un grandissimo scrittore islandese che ha completato, compilato, concluso l'edda poetica e l'edda in prosa infatti grazie a degli scritti antichi risalenti al XIII secolo ritroviamo anche la storia di Loki essa comunque è una figura, è una divinità ambivalente c'è l'astuzia e l'inganno si vuole distruggere l'ordine cosmico si cerca in qualche modo di stigare il conflitto fra gli dei la fine del mondo, il Ragnarok per una rinascita lui è una figura che bazica sempre fra bene e male ovviamente è importante, voi conoscete sia la mitologia sia ovviamente la DC Comics e la Marvel sia ovviamente tutti i film insieme a Thor che è la serie TV ovviamente Loki nella mitologia norrena e anche nel credo è il dio dell'astuzia e degli inganni ingegnoso, inventore di tecniche paragonate ad altre divinità molto ambigue gli Trikester però non ci importa di loro in questo momento ma era solamente per fare un riferimento che erano comunque delle figure ambivalenti degli imbrugioni, dei truffatori che mistificavano comunque Loki, figlio del gigante Farbauti e della ninfa Null a un certo punto stringe un patto con Odino cercando, il dio degli dei di contribuire alla costruzione del mondo un legame che lo rende un personaggio impossibile da classificare sin dall'inizio se è buono o cattivo perché compie delle gesta buone ma allo stesso momento cattive più che altro lui che fa? lui compie delle gesta secondo dei suoi fini dei suoi obiettivi e quindi può sembrare cattivo per gli altri ma non per se stesso e questa è una cosa molto interessante a volte invece fa solo delle cose malvagie ci mancherebbe altro di fatti a volte è bello ed amabile di aspetto perfido ed infedele nelle idee è un dio ma anche un demone ed è importante la questione del legame con i giganti anche lì se ricordate anche i giganti di Ghiaccio come in principio si insegue questo patto diciamo con Odino poi per la creazione del mondo ma allo stesso momento voleva con la sua scaltrezza distruggerlo la sua perfidia scellerato ebbe due figli dalla moglie Sijin Narfi e Vali è molto importante perché uno era il serpe il serpente che accerchiava la terra e l'altro è il lupo Fenrir se ricordate per gli amanti dei Kingdom Hearts o Kingdom Hearts è la spada di uno dei protagonisti dei vari Final Fantasy no? non mi riferisco a Cloud Strike mi riferisco a Skull Leonard se non ci avete giocato ragazzi recuperatelo oppure giocate a Kino Hearts oltre che Final Fantasy e lì ci sono i personaggi che aiutano il nostro protagonista Sora oltre a Paverini e a Pippo oltre a Topolini e tutti gli altri mondi Disney e non solo ci sono anche personaggi di Final Fantasy o Final Fantasy comunque dicevamo Fenrir il lupo e il serpente ragazzi ovviamente qui già si potrebbe fare una teoria magari Loki ha uno zone mitologico può avere uno collegato a un serpente sì però ci sono già le sorelle di Boa Hancock può avere uno del lupo sì ci sarebbe già quello di Yamato però dipende per esempio le sorelle di Boa sono due hanno due serpenti diversi quindi può esistere anche un altro lupo mitologico il ferri non è lo Ugino Magami cioè per esempio poi magari potrebbe avere completamente ancora un altro frutto che non c'entra niente però pensiamo perché i frutti più forti come ha detto Oda sono gli zone mitologici ovviamente lo so che ci sono sono i Paramish sono i Loggia ci sono tante cose però questi mitologici stanno prendendo una parvenza molto particolare quindi non è che è un discorso generale ma per gli ultimi avvenimenti soprattutto da quando esiste l'Hito-Hito-No-Mi modello San Godenica sono un po' cambiati gli altarini rispetto a quando invece i Loggia spadroneggiavano e mangano c'è un equilibrio poi dipende da casi ai casi ovviamente ci mancherebbe altro però ultimamente gli zone mitologici stanno avanzando detto questo poi c'è stato il tradimento che commise Loki fece uccidere un suo amico Balder poi venne punito dagli altri divinità comunque alla fine c'era Loki che venne incatenato e subì tra virgolette questa punizione insieme ai figli che vennero uccisi a loro volta quindi Loki comunque è una creazione dell'arte settentrionale ignoto al comune della mitologia germanica il suo nome è connesso anche con Luca che chiudere come colui che apporta alla fine la rovina del mondo è poco probabile eppure non è da escludere tutto questo si debba attraverso per esempio il Vlodur accostare all'Indiano il Votra eccetera ma come sapete ho detto che non mi voglio dilungare in quelle altre situazioni e torniamo a noi il potere di abitare i Loki in generale Loki dovrebbe essere un mago usa la stregoneria una forza e una resistenza sovrumana possiede un tessuto fisico di densità potentissimo e longevo vabbè nel caso di One Piece per esempio è un gigante quindi per forza è longevo vivono tantissimo ovviamente One Piece potrebbe essere così come no potrebbe essere una mezza pippa come no potrebbe essere cattivo come no in altri fumetti Marvel e DC Comics è un personaggio incredibile nel manga Record of Ragnarok è uno dei dei che non partecipano esistono il castigo di Loki come vi dicevo perché provocò la morte di Dio Baldr e quindi venne punito a sua volta magari anche qui potrebbe aver fatto qualcosa a Elbaf non lo sappiamo potrebbe anche esserci una congiura da parte di Loki contro i nostri ovviamente al finale abbiamo beccato il Sun God Fake che era Road quindi ci mancherebbe altro ovviamente noi abbiamo chi abbiamo incontrato ragazzi facciamo anche un piccolo proprio abbiamo incontrato Taioshin che in realtà è una della flotta della grande flotta di Cappello di Paglia un fake Dio del Sole che in realtà non lo è con delle finte divinità le api il coniglio il serpente il corvo i topi sembra di stare nei viaggi di Gulliver no poi abbiamo Ligdrasil ragazzi che è un'altra cosa importante anche sembra anche la storia di Giacomino no quella del fagiolo magico quelle cose qua è la pianta di fagioli che cresce lo scala e si trova nella terra dei giganti Ligdrasil dicevamo l'albero della vita secondo la mitologia norrena dovrebbe esserci no e lì abbiamo i nove mondi uniti che sono molto importanti non so se vedremo nove mondi ovviamente perché bisogna vedere Oda come sempre le prende un po' così comunque i nove mondi sono in ordine il luogo dei morti il luogo degli effioscuri dei nani il luogo delle nebbie e del terrore il mondo dei giganti e giganti di gelo e di ghiaccio la terra e il mondo dove viviamo noi il luogo dei vani tribù della natura e della fertilità il mondo degli effi di luce il regno e la casa degli dèi Asga dei Zir dove ci sono tutti e poi c'è il mondo primordiale o il mondo di fuoco ok abbiamo detto tornare a noi che l'albero rappresenta la verticalità della vita riassume l'antagonismo tra terreno e celeste ed è importante perché ci sono varie tradizioni anche scandibili e anche leggendari sul significato ancora attuale di questo albero perché il motivo dell'albero cosmico ricorrente delle tradizioni diverse nasce la leggenda in cui i protagonisti dell'albero appare degli dei Odino il Dio si è appese per nove giorni e nove notti al ramo cosmico e lo viene trafitto da una lancia Odino sacrificò se stesso per impossessarsi del significato del potere delle rune con il tempo in suo onore ogni ramo ha creato delle vittime sacrificali per dare origine al nome poi Yggdrasil metafora del patibolo di Odino comunque è importante questa rappresentanza di questi nuovi mondi queste nuove fatti specie perché poi si parla anche delle radici nelle radici troviamo delle situazioni molto importanti tra cui l'albero per esempio viene mostrato anche in altri manga no? in altre storie abbiamo detto Thor ma possiamo dire l'attacco dei giganti possiamo parlare di Vikings o di Villan de Saga ci sono tanti richiami per la questione di Thor di Odino di Loki mentre come vi dicevamo la questione del Ragnarok anche lì è molto importante a parte tutte queste divinità che vi ho detto il dio delle grandi orecchie coniglie e queste cose qua che ovviamente erano ma anche la questione di Ugin e Munin che lui le ha uniti in Mugini che è il corvetto o anche la serpe di Mjogaror che è molto importante anche lì c'è un'altra leggenda e ci sono tanti riferimenti a quelle là che sono le storie ma noi volevamo in questo senso farvi pensare ma secondo voi no è possibile quindi mi fermo un'altra ma poi vi dico l'ultima cosa che Loki possa essere il villain della saga cioè se Oda dovesse dare queste caratteristiche del personaggio a Loki One Piece lui risulterebbe essere un nemico probante per il Mugivaro soprattutto quando sarà forte non avrà veramente un frutto non lo avrà oppure sarà un'altra saga comunque con qualche battibecco sì ma non probante per l'Ubrico oramai è il Dio del Sole un guerriero estremamente potente giù e voi che ogni capitolo diventa sempre più forte diciamo c'è la questione del Ragnarok e qui vediamo un attimo che letteralmente il destino degli dei ed è importante nella mitologia una serie di eventi catastrofici su scala mondiale che provocheranno un'apocalisse dei nuovi mondi nella mitologia per causare ovviamente una rinascita questi elementi ci sono catastrofi spiccano grandi eventi la battaglia famosa fra gli dei tra le potenze della luce e quello delle tenebre del caos e infatti moriranno anche delle persone positive come Odino come Thor come Frey ma moriranno anche Loki ci saranno delle calamità attenzione riverà l'incendio ci sarà la sommessione cosmica cioè il mondo cadrà sott'acqua ci profondità ci profonderà ci sarà la caduta degli astri di saggezza ci sarà la caduta della volta celeste del creato un po' di situazioni molto molto pericolose detto questo ho cercato di riassumere quanto più possibile l'idea di quello che potrà essere ma se Loki dovesse essere alleato sarà buon per lui se Loki dovesse essere un villain sarà peggio per lui perché i Mugiwara adesso tra un po' si dovranno riunire comunque il dio del sole Nika venerato e Rufi magari ci saranno altri giganti come Roa che potrebbero non vedere di buon occhio o Nika o Rufi in generale visto proprio come pirata ma comunque poi avranno a che fare con la sua enorme potenza e quindi se i giganti vogliono testare una questione di forza per percepire quanto Rufi sia veramente colui che viene venerato da tantissime ragioni pesci bucanieri lunariani sono nel cielo albass i giganti più chi più ne ha più ne è quindi Warland Elbath eccetera se sarà un villain sarà peggio per lui se sarà un alleato sarà meglio per lui ma ditemi voi cosa ne pensate qui nei commenti Loki potrebbe essere un villain quindi la storia di Loki la storia di Norrena la storia dei vichinghi la storia delle divinità l'Igdrasil il Ragnarok e tante altre i figli di Loki possibile potere ci possono essere tantissimi io ve ne ho detti alcuni ma avete capito quanti poteri potrebbero esistere se ci colleghiamo a quelli che sono gli usi e i costumi di questa mitologia potrebbero essere cd poteri ho detto un ozono mitologico ma potrebbe essere un Panamisha potrebbe essere un loggia catastrofico cioè potrebbe essere tutto ovviamente speriamo che Loki non sia una pippa come quello della copertina del video perché è quello di questo video qui perché è quello che Oda fece una volta speriamo che il design del vero Loki sia super figo insomma detto questo iscrivetevi mettete like condividete qui nelle schede vi metto altri video altre live vi ditemi recuperate le vecchie le ultime 4-5 live 1125 1126 1127 1128 1129 poi ci vediamo per la live nuova per la live quindi nel 1130 quella live del compleanno e tante altre belle cose iscrivetevi mettete like condividete supportateci solo la verità solo la verità nient'altro che la verità di un po' Grazie a tutti.